Sono Sara Chialva, componente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino, in rappresentanza di Confagricoltura Torino. L'Italia e il Piemonte in particolar modo sono culla del patrimonio alimentare e gastronomico su scala internazionale. I nostri prodotti, infatti, sia quelli della terra che quelli derivati dalle nostre trasformazioni artigianali o industriali, vengono esportati in quanto eccellenza in tutti i paesi del mondo. La Camera di Commercio di Torino ha sempre investito molto nella promozione delle proprie eccellenze, fatti da anni, grazie al progetto Maestri del Gusto, imprese di produzione agricola, alimentare e vitivinicola, diventano ancora più vere e proprie testimoni dei saperi e dei sapori più tipici di Torino e provincia. Anche il Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Torino intende dare risalto alle buone prassi delle imprese femminili nel settore agroalimentare e per questo ha organizzato dei business talk, dei talk show virtuali in cui si raccontano le esperienze e i modus operandi delle imprese femminili d'eccellenza del territorio. Grazie.